60 seconds del giovedì sera cari amici grazie grazie e ancora grazie per i tantissimi complimenti le critiche le osservazioni ma soprattutto perché in una marea siete corsi a comprare la ragione in edicola o vi siete registrati su www.laragione.eu ricordiamo se vi registrate su www.laragione.eu nome cognome la vostra mail se volete il numero di telefono leggerete sempre per sempre gratuitamente la ragione il nuovo quotidiano d'opinione che abbiamo lanciato ieri giorno della festa della repubblica domani domani firmerò il fondo e parlerò di un tema cui tengo tantissimo torneremo tra l'altro su questo tema lo faremo speriamo già la prossima settimana grazie anche ai numeri di luca ricolfi e soprattutto le sue analisi il crollo demografico in italia guardate lo so ne parliamo spesso per fortuna dico perché insomma sempre più persone si stanno rendendo conto che se non affrontiamo questo che è già il problema dei problemi diventerà così grande da risultare semplicemente ingestibile ne scriverò domani con una sorta di appello ma sul serio non al politico x o all'istituzione y ma a noi perché se c'è un problema che passa tutto da noi dal nostro modo di intendere la vita anche gli impegni della vita che non sono assolutamente in contraddizione con l'idea di libertà ma anche di svago non andremo da nessuna parte poi permettetemi prima di chiudere agli amici edicolanti c'era una copertina di 50 centesimi della ragione per sempre non è un'operazione di marketing di lancio per sempre ok visto che qualcuno aveva dei dubbi mi permetto di dirlo buona serata fa un caldo è una giornata meravigliosa a domani